Due distinte operazioni dei carabinieri di Andri hanno portato all'arresto di due soggetti, di cui uno minorenne, e al sequestro di 400 grammi complessivi tra marijuana e hashish, nonché 3.800 euro in contanti. Il primo a finire in manette è stato un 17 neandriese, sorpreso, con 350 grammi di marijuana, in parte suddivisi in dosi, trovati all'interno della custodia della chitarra e sottoposti a sequestro insieme a 205 euro in contanti e materiale per il taglio e confezionamento della sostanza. Il giovane, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato sottoposto ai domiciliari. Nel secondo caso si tratta di un 38enne, sempre andriese, che in Viatrani cedeva indisturbato dosi di droga a bordo della sua autovettura. Bloccato dai militari e sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 10 dosi di hashish e marijuana, pari a 22 grammi, sottoposti a sequestro insieme ad un bilancino di precisione e 3.600 euro in contanti trovati nella sua abitazione. Tratto in arresto, il 38enne è stato trasferito nel carcere di Trani.